Oggi andremo a vedere un po', diciamo, il titolo di questo speech è From Script Key di Tu Savage, andremo ad esplorare un po' insieme quelle che sono, diciamo, delle potenziali tecniche che un aspirante 3-tactor partendo proprio da zero, abusando di tutta una serie di servizi più o meno pubblicamente disponibili, ma senza troppe capacità tecniche può arrivare a riuscire a prendere possesso totale di infrastrutture critiche di un certo livello. Andremo a guardare, faremo degli esempi riguardanti una gang di 3-tactor che si chiama Lapsus, il cui uno dei principali attori è stato arrestato poco tempo fa e condannato pesantemente per ovvie ragioni di impossibilità nel, tra virgolette, educarlo secondo il governo degli Stati Uniti, anzi in realtà tralasciando un po' di piccoli discorsi e lancio anche un po' una vena polemica riallanciandomi al discorso dei colleghi prima, cioè se qualcuno mi dovesse chiedere, parlavano di Lockbit, qual è un'azienda ad oggi che ha creato e ha portato consapevolezza nei confronti della cyber security verso il mondo convenzionale, non sono le big ma è Lockbit stessa, quindi molti di noi tra virgolette nemmeno lavoreremo se non ci fosse i 3-tactor e quindi oggi volevo un po' andare a spiegare quelli che possono essere i passaggi che possono essere effettuati per appunto popnarsi un'azienda di alto profilo. Soprattutto ci concentreremo sul come è possibile crearsi facilmente una nuova identità, come crearsi degli account sui più famigerati forum, come abusare dei tool open source, Telegram, il suo utilizzo per aspiranti 3-tactor e come si può raggiungere l'obiettivo. Queste sono alcune definizioni generali per chi è nuovo nel mondo della threat intelligence, ma tendenzialmente esistono dei database broker che sono dei gruppi o individui che sono specializzati nell'acquisto e nella vendita di accessi a database ottenuti spesso tramite mezzi illegali come criminal hacking. Degli access broker che sono degli individui o dei gruppi che si occupano di acquistare e vendere accessi a sistemi informatici, reti o dati. Degli steeler services che implica praticamente la vendita di software oppure l'accesso a piattaforme in cloud, SaaS, progettati per rubare informazioni sensibili come credenziali d'accesso a dati finanziari, per individui e organizzazioni, dei botnet vendor che sono dei fornitori di accessi a botnet, quindi macchine infette precedentemente da attività di persone X che le listano sui black market e le vendono per poter essere utilizzate dal semplice DDoS ad attività un po' più malevole. Diciamo i mercati appunto essendo anche il darknet e i market sul dark web tendenzialmente dei mercati a tutti gli effetti, cambiano lo scopo ma la forma mentis e l'approccio è lo stesso, è un mercato, esiste una domanda e esiste un'offerta. I mercati appunto sono nati a seguito di una domanda e ciascun mercato può contribuire agli altri per mantenere appunto un ecosistema robusto, a tutti gli effetti ad oggi le ransomware gang o in generale le gang di threat actor e di cyber criminali sono tranquillamente equiparabili sia per nome di persone che per expertise che per fatturato a un'azienda convenzionale di livello medio alto. Logbit si parla di diversi, quasi un billion rumors dicono di fatturato in quattro anni quindi è una bella azienda. Ad esempio diciamo può esistere che qualcuno sviluppa un malware per uno stealer e desidera avviare appunto un servizio di noleggio o vendita di questo stealer. Potrebbe pagare ad esempio un bot dat vendor per distribuire il suo malware su un determinato numero di macchine che sono già state infettate. Una volta appunto che le informazioni sono state sottratte lo stealer service può vendere le credenziali trovate nei log stessi che fornisce lo stealer agli access broker e questi intermediari ad esempio possono avere accesso ai servizi di back end come database che poi verranno sottratti e venduti ai database broker. E questo processo è ciclico, è un uruburu. Adesso vediamo un po' più nel dettaglio come funziona. Ad esempio non so se ricordate tutti Rockstar e Uber cosa è successo nel 2022. Un threat actor è riuscito appunto ad infiltrarsi in una serie di reti interne di ciascuali di queste aziende rubando e divulgando al pubblico dati sensibili sia in ambienti di sviluppo che in produzione. Molti aspetti del settore appunto della threat intelligence non hanno già conoscenza dei probabili responsabili ancora prima degli annunci ufficiali ad esempio del team di public relation di Uber e Rockstar. Inoltre diciamo anche da sto punto di vista perché Uber e Rockstar tutte le big del tech si affidano comunque a programmi di bug bounty, hacker one, bug crowd e similari. E quindi diciamo tanti anche di noi, anche io ci partecipo attivamente, mi chiedevo ma in una rete tipo Uber come è fatto ad entrare a questo? Difficile. Ad esempio sfruttando vulnerabilità tecnologiche intendo sempre, poi sfruttando la vulnerabilità finale che è l'essere umano, quello vabbè entriamo dovunque. Circa una settimana dopo l'attacco ad esempio Uber ha pubblicato questo comunicato, dicendo appunto che gli account erano stati compromessi, le solite storie, il canale di Slack, una parte dell'infrastruttura cloud e via dicendo. Quindi dicevamo il comunicato che ha fatto Uber ha dato delle certezze, ad esempio il pirata in questo caso non aveva trovato un bug nella rete di Uber, ma era riuscito ad accedere alla rete utilizzando delle credenziali rubate che erano state vendute sul dark web. Luce di questa scoperta analizzando il tutto, guardando nei vari feed di Telegram e via dicendo, è venuto fuori che questo gruppo Lapsus era il possibile, diciamo, fautore dell'attacco. Lapsus per chi non lo conoscesse è un gruppo di hacker, poi diventati criminal hacker, però all'inizio non erano proprio solamente criminal hacker, che hanno iniziato a condurre attacchi informatici ad alto profilo nel 2021. Inizialmente attaccavano soprattutto aziende sudamericane, ma poi in seguito hanno esteso il loro raggio d'azione includendo anche aziende di grande lirievo, tipo anche Rockstar Games, soprattutto il codice di GTA V e via dicendo. Il primo attacco informatico di Lapsus è stato a confronti del governo brasiliano nel dicembre 2021, nel 2022 a marzo il gruppo si è guadagnato poi tutta la sua notorietà per gli attacchi che più o meno abbiamo, penso, abbiamo sentito tutti riguardo a Microsoft, Nvidia, Samsung, eccetera. In seguito a questi attacchi, attraverso le indagini, la polizia della City di Londra ha arrestato sette persone relativamente alle indagini sull'Apsus, ad esempio si pensava che fosse stato smantellato e invece all'aprile 2022 hanno ripreso le attività a settembre con nuove violazioni, ad esempio su Uber, Rockstar Games e via dicendo. In seguito a questi attacchi la polizia di Londra ha preso altri cybercriminali. Uno degli ex membri, ad esempio noto come Sigma, White, Tipot, eccetera, è stato arrestato accusato di due violazioni riguardo la libertà vigilata e due violazioni per uso in proprio di computer. Adesso, dopo l'ultima che ha fatto, l'hanno proprio dato, mi sembra, vent'anni. L'individuo ha ammesso, però diceva che non erano connesse al gruppo Lapsus, quello per evitare logicamente l'associazione e via dicendo. Ha dichiarato appunto di poi non essere più colbevole due accuse, ma è stato dimostrato che non è così. Il tritactor White, diciamo, era già noto perché qualcuno l'aveva doxato su Doxbin, che Doxbin è un sito web che aveva fondato proprio questo White e poi dopo è stato venduto ad altra gente, poi rivenduto e via dicendo, insomma c'erano dei dati e l'ha doxato. Questo era l'update relativo all'arresto di White. Ora, è stato scoperto che questo ragazzo ha 17 anni, come ha fatto un 17enne con capacità per quanto ne possa avere, può essere anche la reincarnazione stessa di un ibrido tra Alan Turing e Ada Lovelace, ma nel tempo proprio non c'è materialmente per arrivare ad avere la conoscenza per attaccare aziende di quel tipo di profilo che investono, ad esempio la lancio una provocazione, non è la PI italiana, stiamo parlando di Uber, Rockstar, quelli investono miliardi in cyber security. Adesso vediamo come potenzialmente è possibile che un gruppo di questo tipo abbia raggiunto un risultato con questo impatto relativo, andando ad enfatizzare il fatto di quanto effettivamente possa essere semplice, quasi tra virgolette banale nella sua semplicità. Uno pensa ai Zero Day, Rockchain, basta come diceva Bruce Snyder, un grande mentore, solamente gli amatori attaccano le macchine, i veri professionisti attaccano le persone. a questo scenario diciamo ipotetico, ah una piccola premessa, non fate a casa, don't trade these at home perché l'opsec è totalmente omessa, fate sta roba qua così su aziende di altro profilo molto probabilmente vi sgamano in tempo breve. Però diciamo, in questo scenario al Tretactor viene assegnato il compito di infiltrazione alla rete interna di una grande azienda, con l'obiettivo di distorcere denaro ad esempio utilizzando ransomware e estraendo dati sensibili nel più breve tempo possibile e magari poi possono essere venduti alla concorrenza. In questo scenario il primo passo cosa farà? Come primo passo cosa farà il Tretactor? Si dovrà creare una nuova identità, ad esempio una nuova email per poi registrarsi ai forum e tutta una serie di servizi, comunicare e via dicendo. Per fare ciò potrebbe usare un servizio sul dark web tipo Elud, aggiungendo ad esempio una quantità irrisoria di Bitcoin, Litecoin, Monero al suo wallet, otterrà appunto accesso all'hosting della mail sulla rete Elud e questo indirizzo consenterà al Tretactor di utilizzarlo per i suoi scopi. Dopo aver fatto ciò si creerà un nuovo account su un forum di criminal hacking, ad esempio Bridge Forum. Con la accesso a questo forum il Tretactor adesso può ora informarsi su quello che sono le richieste, i trend topic sui mercati del darknet, da qui può facilmente individuare e contattare gli access broker che potrebbero fornire gli strumenti e le informazioni necessarie per l'attacco. Loro si listano, c'è tutta una campagna di advertising, cioè il cybercrime come dicevo prima è parallelamente considerabile alla stregua di un'azienda convenzionale, a tutti gli effetti, sia per organigramma che per expertise che per denaro e tutto il connesso. In questo scenario il Tretactor Rho sa che è nuovo nel forum, quindi la sua reputazione è praticamente infima e che sa che è saggio entrando nella fossa del leone non avvicinarsi subito immediatamente agli access broker perché molto probabilmente o ti si bevono o ti fanno bere o comunque non hai trust nei loro confronti e quindi molto probabilmente se è la meglio cosa che vai ti trollano, se no ti usano potrebbero usarti anche come capro espiatorio, insomma ne sono moltiplici gli esempi di questo fatto, ma adesso non andiamo troppo a inoltrarci qua. Per proseguire diciamo il Tretactor dovrebbe tentare un altro metodo, non andare direttamente a gamba tesa, cosa farà? Chiederà ad esempio a un database broker quali sono gli obiettivi o i dati attualmente più richiesti. Viene detto che ad esempio il database del governo russo contenente credenziali d'accesso sono preziosi perché il paese è altamente in guerra con una nazione vicina e adesso sembra che il Tretactor un pochino debba lavorare. Sapendo che gli access broker appunto sono interessati a database contenenti credenziali per un accesso specifico di un governo, il Tretactor inizierà a compiere vere e proprie azioni di criminal hacking appunto per ottenere queste informazioni. Si sa che il modo più rapido per ottenere i dati di un database esposto su internet potrebbe essere quello l'utilizzo exploitando una SQL injection qualora si trovasse un obiettivo vulnerabile a questa tipologia di attacco. Ricordiamoci, uno dice SQL injection nel 2024 è la quarta OVASP top 10, quindi ci sono ancora, nonostante l'esistenza degli ORM e tutta una serie di annessi e connessi che by design e by default possono proteggere i nostri applicativi web. L'attore della minaccia, il Tretactor, inizierà a ricercare tutti i domini governativi noti associati appunto al governo russo. Sanno che gov.ru è la radice principale per i domini del governo russo e quindi devono trovare il modo di raccogliere dati quanti più domini rapidamente contenenti gov.ru. Ci sono risorse diciamo di ogni tipo e di ogni gusto per fare le numerazioni di domini e sottodomini in questo scenario, il Tretactor ad esempio ha scelto CRT.sh è un sito che ti lista i certificati, ogni sito web tendenzialmente deve avere un certificato e qui ne trovi tanti. Comunque in combo con altri open source tool la stessa cosa può essere fatta anche in maniera diversa, integrata, modificata e via dicendo. A questo punto utilizzerà il comando grep sulla lista che si è trovato per tutti i domini del governo russo e li inserirà in un file separato. Una volta fatto ciò utilizzerà ad esempio ipoteticamente una metodologia tipo questo per trovare una vulnerabilità di tipo SQL injection. Utilizzerà strumenti come Hamas, Subfunder e Chaos per ottenere l'elenco dei sottodomini associati. Una volta hanno terminato l'attività utilizzerà ad esempio HTTPX per controllare le prime mille porte, successivamente userà ad esempio Katana per esplorare il suo dominio e tutti i suoi endpoints e con un elenco di tutti gli endpoints eseguirà ad esempio GetDeers per estrarre tutti i possibili percorsi di directory e files. Poi utilizzerà software come Nuclei con l'opzione del tag SQL injection quindi andando a prendere solo quei payload specifici per fare il mero rumore possibile e verificare la presenza di vulnerabilità di tipo SQL injection a ciascun livello su qualsiasi file e qualsiasi directory che rispondono sugli endpoints presi in analisi. Infine dopo trovato il triggering userà ad esempio SQL map per poter provare a estrarre in autonomia i dati di un certo tipo. Tutte queste attività possono essere fatte anche manualmente però usando questi tool che sono estremamente potenti diciamo uno script kid può diventare abbastanza pericoloso. Dopo circa 24 ore il 3Tactor non solo scopre diverse vulnerabilità di tipo SQL injection ma riesce anche a sfruttarne una con successo. Ad esempio estrendo il contenuto di un grande database che contiene informazioni di accesso di oltre 50.000 utenti. Questo è quello che i broker stavano cercando. Quindi il 3Tactor se ne torna sul forum. Siccome in questa fase il 3Tactor non è interessato direttamente su quel database e quei dati a monetizzarli. Il suo obiettivo era quello di ottenere accesso a una grande azienda. Offre di scambiare il database in cambio di ad esempio informazioni o di un'introduzione quindi una presentazione a un servizio di Steeler premium. Come avevo visto prima i servizi di Steeler sono quei gruppi di 3Tactor che sviluppano malware di tipo Steeler. Il database broker è felice di ricevere il database gratis quindi tecnica della bocco doppio via e fornisce alcuni al 3Tactor alcuni contatti dei colleghi su Telegram. Al 3Tactor viene detto di far sapere che è stato invitato proprio dal database broker perché lui è contento che avevano dato 50.000 accessi quello che cercavo vale oro e dal loro gruppo. E ciò appunto gli garantirà l'accesso per una settimana ad esempio a questo servizio Steeler. Una volta entrato nel canale Telegram è evidente che prezzi elencati il database broker aveva valutato il database circa 300 dollari. Quindi capito il prezzo è anche abbastanza abbordabile per noi che lavoriamo a queste latitudini quindi anche per chiunque. E quindi compra questo log Steeler ad esempio per un gruppo di 10 persone, lui, i suoi amici e i suoi compagni di scorribande. Ad esempio l'amministratore dello Steeler aveva scelto Redline come strumento preferito ma ce ne sono molti. L'amministratore diciamo anche del gruppo Telegram era anche ad esempio disposto ad accontentare gli utenti nel canale che ritrovano log specifici di paesi e regioni appunto permettendo il focus su target specifici perché non so se siete mai entrati su quei gruppi Telegram in cui forniscono log cioè parzarsi tutta una serie di log di uno Steeler insomma è anche un po' tra virgolette noioso e quindi te li forniscono, c'è diversi insomma sono anche loro customer care di alcuni 3Tactor non fa nessun tipo di, cioè può fare invidia a molti customer care anche di aziende blasonate illegali. Ogni ora ad esempio su questo ipotetico gruppo un nuovo dump di log viene pubblicato in formato RAR e viene scaricato da tutti i membri quindi diciamo però i log sono così grandi e non c'è un modo per un gruppo di 10 persone di riuscire a analizzare tutti questi file in un'ora. Molti 3Tactor ad esempio mirano a wallet crypto, dispongono di strumenti per decifrare e svuotare i wallet ma l'obiettivo di questo 3Tactor non è guadagnare denaro in questa fase ma ottenere accesso alla rete interna di una grande azienda. Quindi cosa farà? Dopo alcune ore dedicate che si è messo lì e scaricato tutto ha trovato ad emergere alcuni log che gli interessano ad esempio accessi a questa Evil Corp. Questi account gli fanno venire un lanternino, gli fanno accendere un attimo la luce, la lampadina e dice ok sembra una persona di nome Chris Harris che lavora presso la Evil Corp, sia stata infettata da uno stealer e poi aveva subito il frutto dei credenziali del browser, incluse ad esempio le credenziali per l'accesso esterno. Per l'accesso allo sportello di sviluppo e poi un servizio di autenticazione di terze parti. I log di questo utente conservavano anche la geolocalizzazione e l'indirizzo IP, quindi utilizzerà e comprerà dei proxy residenziali situati molto vicino al target in maniera tale riuscirà ad evadere alcune tipologie di meccanismi di sicurezza ad esempio basate sul geoblocking. Una piccola premessa, tutto ciò che è meccanismi di blacklist, security, troubles, security non fanno nient'altro che darvi un senso di sicurezza sbagliato, fare tra virgolette un attimino stizzire il threat actor, quindi potenzialmente farlo anche incattivire di più e non portano a nulla, non salvano a nulla. Non è mai, non ha mai funzionato, non funzionerà mai. Quindi sempre white list. A questo punto era chiaro come dicevamo del discorso, una volta preso questo proxy residenziale prova ad accedere al sistema dell'Evil Corp con una delle credenziali che ha individuato. Questo era un buon accesso, l'ha trovato, ha funzionato, però l'host non era connesso alla rete interna, era un sasso. Tuttavia ha notato che le credenziali di un certo kh erano valide ma richiedevano l'invio di una notifica push ad esempio, c'era una two factor, all'utente prima che fosse possibile effettuare l'accesso. Con un piccolo trucco, il threat actor chiamava l'utente e riattaccava mentre inviava contemporaneamente la notifica push. Dopo aver ripetuto cinque volte quest'operazione, Kim Harris ha premuto accetta. Ciò ha consentito al threat actor di accedere al servizio di autenticazione di terze parti e questo era esattamente quello che voleva, fregargli il token valido. Ora il threat actor ha ottenuto le credenziali, ha usato il proxy residenziale vicino, è riuscito a indurre l'impiegato a cliccare su accetta, è un momento di iniziare a vedere dove può accedere, il livello di accesso e fare tutte le attività di post exploitation finalizzate alle sfiltrazioni. Questo è proprio esattamente quello che fece White 1 a Uber, esattamente così. Dopo aver trovato alcune informazioni utili, il threat actor inizia a sfiltrare tutti i dati, sviluppo, codice sorgenti, è tutto quello che riesce a trovare. Una volta il threat actor ha ottenuto tutto ciò, sta a lui decidere cosa fare dopo, sembra che fare screenshot non era quello che avrebbe fatto questo threat actor. Quindi diciamo, completato la sua missione, riferirà ai suoi in merito del successo, chiude la giornata, contento, festeggia un'azienda multimiliardaria a gambe all'aria per via di un ragazzino di 17 anni. Sebbene appunto questo scenario possa sembrare estremamente semplice, quasi banale, vi assicuro che funziona così e funziona così anche nelle migliori famiglie purtroppo. Questo appunto è un breve assaggio del mondo dei mercati darknet e di uno scenario potenziale in cui un nuovo threat actor potrebbe ottenere risultati da notizia urgente DEF con uno, stacca stacca in pochi giorni. La facilità appunto in cui un threat actor detio di questo nome, perché come si dice, ok che sono cyber criminali, però non c'è buono senza cattivo e non c'è cattivo senza buono. Noi buoni appunto, come dicevo all'inizio, non lavoreremo in un certo modo e su un certo tipo di attività se non ci fosse dall'altra parte chi fa queste cose per spirito malevolo. La facilità appunto con cui un threat actor ci degno di nota può arrivare a effettuare un attacco di questo tipo dovrebbe spaventarci veramente, non sto scherzando. Con i migliori strumenti di evasion e con i migliori malware è possibile essere in grado di eludere la maggior parte delle rivelazioni di antivirus IDR e anche noi siamo, intendo tutti noi, a un bug zero dei di distanza dall'essere aggiunti alla lista delle vittime dei stealer e non solo. Dovrebbe essere anche sorprendente che questi venditori di stealer su Telegram, come menzionato in uno scenario, siano facilmente accessibili anche su canali pubblici. Se cercate redline, eternity e similari ne trovate a migliaia. E molto spesso questi gruppi di Telegram mettono a disposizione questi log freschi, gratuitamente, proprio per far iniziare le persone, un po' come dicevano quando eravamo piccoli, non accettare le caramelle dagli sconosciuti. Questi fanno proprio così, uguale. Questa è la piccola immagine per dire che paccia prima che i criminali lo facciano prima di te. Grazie a tutti per l'ascolto.